Ingegnere, ci puoi dire come è stata accolta questa mancata proroga della conferenza dei servizi? La regione avrà fino al 5 di aprile per decidere come andare avanti. Ma c'è fiducia o si dovrà ricominciare con una nuova conferenza dei servizi? Questo non sta a me, scusate. Ragazzi vorrei sentito girare di là. Va bene, grazie.